Se dobbiamo lottare con le calamità e dobbiamo lottare anche con gli ungulati sta diventando una lotta un po' impara. Di pari passo ai danni cresce anche la rapia degli agricoltori della provincia di Arezzo che negli ultimi anni hanno dovuto fare conti oltre che con un clima impazzito anche con il problema degli ungulati. Sono 4-5 anni che non ci miniamo più perché sta diventando quasi un problema e nei vigneti nonostante i riticolati siamo costretti a controllarli praticamente notte e giorno perché le riticolate a volte riescono a strapparcelo e passano gli animali. Praticamente te quando vai a raccoglie troverai un 30% di roba in meno che non porti alla cantina visto e considerato che noi si vive con questa attività. Adesso arriva anche la dura presa di posizione delle associazioni di categoria Confagricoltura, CIE e Coldiretti che puntano il dito verso i cacciatori. Perché se loro non li cacciano e se loro non li abbattono e se loro non si organizzano in modo tale che effettivamente il numero degli animali selvatici diminuisca non c'è altro strumento. L'oggetto del contendere è dunque la questione relativa alla legge regionale obiettivo per il contenimento degli ungulati in Toscana. Nel frattempo c'è stato un aumento tale della popolazione degli ungulati che l'abbattimento dovrebbe essere un aumento almeno percentuale. Non ci può essere non astio su una cosa quando viene messo in discussione il risultato economico del lavoro di un anno. I cacciatori questo devono capire.